Video recensione dedicata a AirJump. Il titolo è di Evelyn Alliance. In questo gioco dovremo cercare di arrivare il più lontano possibile, quindi di fare il maggior numero di punti. In alto abbiamo il tasto delle impostazioni dove potremo ad esempio calibrare l'accelerometro, pulsante per l'audio, le info sul titolo, quindi i cosiddetti credits, il tasto per resettare quindi il nostro progresso dal Game Center, infatti supporta il Game Center, condivisione Facebook e Twitter, ma anche le informazioni, help e tips. Torniamo indietro, in alto abbiamo la possibilità di comprare nello shop abilità e quant'altro per migliorare l'esperienza di gioco, in basso il pulsante del Game Center. Tasto Play e come vedete ci saranno dei piccoli brevi tutorial per farci vedere come si gioca. Il titolo utilizza l'accelerometro, quindi inclinando il dispositivo da una parte a un'altra ovviamente, come vedete, il personaggio andrà più veloce oppure rallenterà, quindi andrà indietro. Come vedete la grafica è molto ben curata, siamo in una giungla e dovremo appunto andare il più lontano possibile, evitando tutti i vari ostacoli e fare il maggior numero di punti. Ovviamente come vedete troveremo tantissime incognite, siano tra questi mostri, nemici e quant'altro. Saltando sopra li potremo abbattere, poi come vedete in alto a sinistra abbiamo i cuori che sono le vite, poi abbiamo la salute e poi quella saetta che è azzurra ci servirà per saltare nei momenti di difficoltà. Basterà tappare a video come vedete e quindi il nostro personaggio salterà in maniera molto più evidente. E poi passando appunto e raccogliendo queste foglie, come vedete queste verdi, aumenterà appunto sia la combo per aumentare il punteggio che la nostra saetta di energia. Vedete gira molto bene, graficamente molto carino e ovviamente inizialmente sarà molto semplice, ma poi troveremo sempre più incognite durante il percorso. Ovviamente poi ci sarà appunto il moltiplicatore combo che appunto ci permetterà di avere un punteggio sempre più alto nel minor tempo possibile. Tutto questo cercando appunto di non morire, perché se no si azzera. Torniamo al meno principale. Pausa, meno, perfetto. Quindi Air Jump è un titolo molto simpatico, un ottimo passatempo per gli amanti del genere. Alla prossima!